Siamo in diretta, come sempre puntuali, alle 7 del mattino, dal lunedì al sabato per sfogliare e dare un'occhiata ai giornali che abbiamo già preparato per voi, il Corriere Adriatico e il Carlino. Iniziamo dal Santo di Oggi, lo vediamo subito, oggi è San Gabriele della Dolorata, il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà alle 17.58. Uno sguardo al sito trebimeteo.com con la grafica di ciò che accadrà in questo fine settimana, l'ultimo fine settimana per quanto riguarda noi marchigiani in zona gialla, un fine settimana con l'anticiclone che però inizia ad indebolirsi, calano le temperature, la prossima settimana con l'anticiclone ma sempre con la possibilità di un'irruzione di aria ferida che porterà evidentemente appunto il calo delle temperature ma forse anche qualche perturbazione, ma per il momento godiamoci questo ultimo fine settimana perché, come scrive il Corriere Adriatico, questa mattina in edizione di Pesaro siamo tornati in arancioni. Il virus accelera, da lunedì le marche cambiano colore, Acquaroli dice nostro dovere fermare questa ondata, le scuole superiori da oggi in DAD al 100%, la bozza del nuovo DPCM, musei e cinema aperti dal 27 di marzo. A centropagina la fase 2 della campagna con l'ospedale che offre la sede di Muraglia, la campagna è quella ovviamente vaccinale, si stava discutendo appunto in questi giorni, si sta discutendo sulla possibilità di utilizzare anche altri spazi perché solo quelli della Celletta sono, soprattutto per la zona pesarese, sono insufficienti. Muro delle Siligate, la soprintendenza bloccate i lavori, affano ciclovia adriatica avanti a piccoli passi, ma occorrono soldi e poi a Pesaro incarichi in provincia il termine breve per fondi in scadenza, poi di spalla invece il focus sul caso vaccini distribuiti solo nella metà delle 200 RSA in appena 105 strutture residenziali per anziani su 218 presenti nelle marche è stata somministrata la prima dose di vaccino. In 57 su 218 partiti con il richiamo. Se la matematica non è un'opinione la campagna vaccinale sta procedendo a ritmi tutt'altro che serrati dunque nelle case di riposo, luoghi in cui troppo spesso si registrano focolai con conseguenze tragiche. Poi in basso, di taglio basso appunto botte, insulti e umiliazioni, da Urbino l'incubo finisce in tribunale, alvia il processo ad un 33enne di Cagli, l'associazione Gensenova in aula con la donna. Andiamo sul Carlino di Pesaro, a centro pagina la fotonotizia, ora tocca alla scuola, oggi via alle prenotazioni, si parte ma solo per gli under 55, poi l'apertura con il weekend in giallo, poi sarà arancione, restrizioni dalla prossima settimana, bar e ristoranti chiusi, limitati gli spostamenti, ieri altre 16 vittime in regione, mentre sul caso Tamponi stop alle superiori, Maricci tira dritto sullo screening, oggi l'annuncio. Lo sport con l'allenatore della VL che è positivo al virus, ma nemmeno quello lo ferma, ci guida, dicono a distanza. E allora andiamo a leggere adesso il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico che come tutte le mattine fa, destina delle pagine intere per gli approfondimenti e fa sempre un'analisi molto precisa, accurata di come sta andando l'epidemia nella nostra regione, il titolo di oggi è il virus accelera ancora, lunedì tutte le marche ritornano in arancione. Il Governatore Acquaroli dice abbiamo il dovere di fermare questa recrudescenza, l'Istituto Superiore di Sanità parla di classificazione di alto rischio, mentre fanno paura le varianti e ci si preoccupa soprattutto per la tenuta del sistema sanitario, prorogata l'ordinanza che terminava oggi per la provincia di Ancona e tra l'altro c'è da registrare anche un incremento dei contagi nella fascia di età tra gli 11 e i 18 anni. Sempre ieri sono state 16 le vittime legate in qualche modo al coronavirus, 9 nell'Anconetano. Sempre dal Corriere Adriatico, che cosa si può fare dai prossimi giorni? Ormai lo sappiamo, ma Maria Teresa Bianciardi ricorda quali sono le regole, anche rispondendo alle classiche domande che ci si pone di fronte a queste normative, a queste ordinanze, eccetera Allora, ristoranti, bar e spostamenti, cosa è vietato? Prorogata fino al 5 marzo l'ordinanza della Regione che chiude anche i confini della provincia di Ancona. Dunque da lunedì tutte le Marche entrano in zona arancione, ma oggi scade anche l'ordinanza del Governatore Quaroli che ha messo in arancione 20 comuni della provincia di Ancona. Ora che cosa succede da domani? Sarà una domenica in giallo per tutti? No, la Regione Marche ha prorogato fino al 5 di marzo l'ordinanza per quei 20 comuni in arancione che resteranno tali, quindi arancioni, anche domani fino all'ingresso di tutte le Marche nella fascia più restrittiva che invece avverrà da lunedì. Quindi per tutti quelli che già erano in arancione nella provincia di Ancona anche domani resteranno arancioni, tutti gli altri invece saranno gialli. Poi da lunedì tutti, tutti quanti in arancione. Altre domande e risposte interessanti sulla pagina del Corriere Adriatico. Intanto oggi scuole, vaccini al personale da oggi alle 8 al via le prenotazioni. In questa fase dosi solo però per gli under 55. Da questa mattina alle 8 è possibile prenotare il vaccino anti-covid per il personale scolastico delle scuole pubbliche e delle università, docenti e non docenti, che con un'età fino a 55 anni non compiuti. Le vaccinazioni inizieranno poi da lunedì. Per il personale scolastico docente e non docente con un'età superiore a 55 anni invece si attiveranno le prenotazioni non appena il Ministero trasferirà alla Regione la lista con tutti i nominativi. Ancora dal Corriere Adriatico. Impennata improvvisa dopo Ancona e Macerata, adesso c'è fermo che preoccupa. Anche qui un'altra analisi interessante con tanto di numeri, report di questi contagi che sono stati elaborati dagli uffici regionali che poi sono stati inviati. Questo report è stato inviato a Roma. Ebbene, la più piccola provincia marchigiana, quindi ferma, ha registrato una crescita tra l'8 e il 21 febbraio. Il territorio dorico, quindi Ancona sesto a livello nazionale con 377 casi positivi ogni 100.000 abitanti. La situazione migliore in questo momento la registriamo noi nella provincia di Pesaro e Urbino e poi nella provincia di Ascoli. Infatti, noi che eravamo zona rossa dove tutto nella nostra Regione è cominciato, dove tutto è partito, ebbene, secondo appunto quanto scrive il Corriere Adriatico questa mattina, la situazione nel Pesarese, provincia che durante la prima ondata fu epicentro regionale del contagio, qui il tendenziale è in decrescita costante da inizio febbraio. Il tasso di incidenza era a 145,3 nei primi sette giorni del mese ed è sceso a 137,5 nella settimana successiva. Ora, sul nuovo invece DPCM, quindi non parliamo dell'ordinanza della Regione Marche, quindi quella che porta la firma del Governatore Coroli, ma quella che porta la firma di Draghi e quindi il nuovo DPCM sul quale si discute in queste ore, che dovrà essere portato, diciamo, messo in campo. Allora, che cosa si può fare? Che cosa non si può fare? La Pasqua, come avevamo già detto anche nei giorni scorsi, per noi italiani sarà blindata, però cinema e teatri aprono il 27 di marzo. Le norme anti-Covid dal 6 marzo al 6 di aprile resta il divieto di spostamento tra le Regioni. Allora andiamo voce per voce, perché a questo punto, visto come stanno andando le cose, bisogna ricominciare da capo, andiamo a vedere che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Allora, intanto sulla mascherina. La mascherina abbiamo visto quanto comunque è importante, è importante anche in casa. Secondo quello che appunto prevede il nuovo DPCM, che non è ancora in vigore, ma lo sarà, va tolta soltanto quando l'isolamento è garantito. Ora, se uno passeggia in una spiaggia deserta è inutile tenere la mascherina, tanto per fare un esempio. Quindi le mascherine restano obbligatorie anche all'aperto e al chiuso, tranne che nelle situazioni in cui appunto l'isolamento è garantito. In casa, e qui io non sono molto d'accordo, in casa l'uso non è obbligatorio, ma fortemente raccomandato, in presenza di persone non conviventi. Proprio ieri dicevamo invece che il problema sono con i conviventi, perché non sapendo che rapporti hanno poi i familiari quando sono fuori, che contatti hanno, soprattutto i figli che vanno a scuola, eccetera, eccetera, allora è sempre meglio tenersela o comunque stare distanti il più possibile. Possono togliere i bambini sotto i sei anni, le persone disabili che abbiano incompatibilità con l'uso dei dispositivi di protezione individuale e chi sta svolgendo attività sportiva. Poi, per quanto riguarda il coprifuoco, nel nuovo DPCM resta ancora il divieto di uscire dalle 22 alle 5. Su questo Draghi non pare non aver nessun dubbio. Sugli spostamenti le regioni sono invece off-limit fino al 27 di marzo, ma tornare nella propria residenza o domicilio o abitazione, anche se si è fuori regione, questo si può fare, dunque è sempre permesso. L'altra questione che riguarda invece i parenti e gli amici, le visite sono consentite, variano però con i colori. Allora, chi abita in zona gialla può andare a trovare amici e parenti una volta soltanto dentro la regione, portando così anche i figli con meno di 14 anni oppure persone disabili o non autosufficienti, comunque conviventi. La stessa deroga vale anche per chi vive nella zona arancione, quindi come saremo noi dal prossimo lunedì, ma soltanto nel territorio comunale di residenza, non fuori dal comune. Tutto questo non vale per chi sta in zona rossa. Andiamo a vedere l'altra cosa che invece può interessare sicuramente, visto che stiamo andando verso la bella stagione, le seconde case si possono raggiungere, ma attenzione alle regole, perché è possibile raggiungere le seconde case, ma non quelle in zona rossa. E comunque è sempre bene informarsi per capire se si rischia qualche cosa. Poi sulla questione dei bar e ristoranti, categoria ultra penalizzata, l'abbiamo sempre detto, e c'è poco da discutere su questo, le consumazioni al tavolo solamente in zona gialla, per cui per tutti i marchigiani, per tutti quelli che hanno un'attività di questo genere, non sarà possibile far consumare al tavolo, quindi saranno tra virgolette chiusi, anche se poi di fatto sono aperti per l'asporto. Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico, fino alle 22 per i soli locali di cucina è consentito l'asporto. I ristoranti degli hotel sono aperti per i clienti che però vi alloggiano. Quindi in zona gialla, bar, pub, ristoranti, gelaterie possono lavorare dalle 5 del mattino alle 18, ma a noi non interessa, tranne domani, insomma oggi e domani, e si può stare al tavolo con 4 persone al massimo, a meno che non si tratti di conviventi. Per tutti gli altri, insomma, come abbiamo visto, poi da lunedì si può fare solo l'asporto. I parrucchieri. I parrucchieri in zona rossa saranno chiusi insieme ai barbieri. Questo almeno nella bozza del nuovo decreto che dovrà entrare in vigore il 6 di marzo. C'è questa novità e riguarda appunto i parrucchieri e i barbieri. Ora, nelle Marche, noi abbiamo detto che saremo tutti arancioni, ma questo non è detto, perché se Ancona non migliorerà la situazione, macerata non migliorerà la situazione, può essere che il Governatore decida di far diventare la zona di Ancona zona rossa. Quindi queste regole valgono anche per loro. Quindi zona rossa, niente parrucchieri, niente barbieri. Poi feste e sale da gioco, stop al dopo cerimonia a scommesse e casinò, ma questo non credo che sia un dramma. Attività motori e sport, con il distanziamento a seconda della zona. Anche qui si può svolgere attività sportiva all'aperto, sia nelle zone gialle, sia nelle zone arancioni, mantenendo la distanza di sicurezza almeno di due metri, perché uno quando fa sport chiaramente butta fuori più aria, più goccioline, più drop. Quindi la distanza aumenta rispetto a due persone che stanno semplicemente ferme e che respirano o parlano a bassa voce. Anche in questo caso bisognerebbe aprire una parentesi per tutti quelli che non hanno capito che più parli a voce alta, più aumenti il rischio che le goccioline di saliva arrivino alla persona che ti sta di fronte. Parlate a bassa voce. Poi quando non è necessario meglio stare zitti. È permesso svolgere attività sportiva di base e attività motoria presso centri circoli sportivi pubblici e privati. Ancora palestre e sci, palestre come i baristi. Forse chi ha le palestre anzi è più penalizzato ancora perché le palestre resteranno chiuse, così come le piscine, i centri benessere, i centri termali, tranne quelli che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Ora, restano chiusi anche tutti gli impianti di sci, i comprensori sciistici, ma ormai la neve se ne sta andando, forse tornerà qualcosa, ma comunque quest'anno ormai ce la siamo giocata. E quindi, va bene, questa è un po' la situazione. Questo è quello che si può fare in base al nuovo DPCM, che però ancora deve entrare in vigore, deve essere approvato. Poi, dal resto del calino, marche condannate dalla morsa dei contagi, da lunedì saremo di nuovo arancioni, le restrizioni scatteranno dopo il fine settimana, nuove chiusure per bar e ristoranti, ieri 686 positivi, ben 16 morti, nessuno in provincia di Pesaro e Urbino. Le marche ripiombano nell'arancione, Ancona questa volta rischia anche il rosso, da lunedì bar e ristoranti solo con asporto in tutta la regione, Acquaroli dice, mi dispiace, raccomando a tutti la massima attenzione che vedete Acquaroli con il sindaco di Ancona, Mancinelli. Ospedali sempre più sotto pressione, in lieve calo solo le terapie intensive, più contagiati, più ricoveri e purtroppo più vittime in provincia di Ancona. Ieri in totale ce ne sono stati, insomma, 16. La cronaca, tornando sulla pagina di Pesaro, a pagina 9 dal resto del calino, con quel macete non voleva ferire nessuno, si è tenuta la direttissima in tribunale al 19enne, bloccato in via Boito, arresto convalidato, è stato rimesso per una libertà, dovrà svolgere lavori utili per avere la sospensione della pena. Poi, in strada Borgeria, i noti asportano di notte da una dita edile un bobcat e un furgoncino, la polizia è andata sul posto. Di nuovo il Corriere Adriatico da Vallefoglia, al via il patto per il clima, Ucchielli chiama due Atenei, il Presidente dell'Unione Pian del Bruscolo invita le Università di Urbino e di Ferrara. Poi, completato sempre a Vallefoglia, il cimitero, si definiscono pure i prezzi, concessioni e loculi, i costi possono variare. Festeggiano la laurea in casa, tutti sanzionati ad Urbino, multati nove giovani, per alcuni misura inasprita, perché pure recidivi, quindi non era la prima volta, e quindi multa a go go. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, ciclovia adriatica, piccoli passi, sulla Fano Urbino, giunta silente, approvato il tracciato a Torrette e Ponte da Torrette a Ponte Metauro, ma approvato il tracciato a Torrette a Ponte Metauro, ma i fondi devono essere trovati. Mentre sempre da Fano, parcheggio selvaggio, c'è pericolo per i pedoni, residente di Via Persiuti, chiede maggiore disciplina. Di taglio basso, invece, la notizia dell'incendio che si è sviluppato ieri nella reception di Fano TV, nuovo incendio a Fano TV, tratta in salvo giornalista, era rimasta intrappolata e respirato del fumo. Stavolta la causa è un cortocircuito. L'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico, la burocrazia soffoca le imprese, 86 adempimenti e 20 mila euro. Ecco gli oneri per aprire una nuova azienda. La CNA chiede di rivedere le procedure. Poi la cittadinanza onoraria al segretario dell'ONU, così la giunta dà continuità all'accoglienza di divane. Poi sotto, invece, le linee guida ci sono i fondi no, il Movimento 5 Stelle sulla delicata questione degli ATS dopo l'intervento di Tinti. La pagina di Fano del Carlino, Fano Marotta, la ciclovia va. A maggio nuovo tratto, la roadmap del Sindaco, arriveremo a Torrete, poi a Ponte Metauro, infrastruttura importante per il turismo e la mobilità leggera. Intanto a San Lazzaro, housing sociale, percorsi ciclabili al Vallato. Ancora dal Corriere Adriatico, questa volta da Senigallia, commerciante di 29 anni, positivo, muore per una crisi respiratoria. Da giorni era in isolamento a casa dopo la diagnosi di Covid, raddoppiati i contagi tra gli studenti. Colto da un malore in casa durante una crisi respiratoria, è morto Muhammad, di 29 anni, originario del Bangladesh, aveva un negozio di cover per i cellulari, lungo corso 2 giugno, e abitava nel rione Porto, in via Cattaro. Mentre esso, essi infettati anziani e operatori già vaccinati, i casi all'opera Pia Mastai Ferretti, dubbi per la seconda dose. Anche questa è una notizia che un po' preoccupa. Siamo a Senigallia, Senigallia, essendo in provincia di Ancona, insomma, già sta vivendo le sue restrizioni, con restrizioni, perché la situazione lì è un po' sfuggita di mano, positive al Covid, anziani e operatori che erano stati già vaccinati all'opera Pia Mastai Ferretti, in attesa, e in attesa della seconda dose, dunque non del tutto immunizzate. Abbiamo detto che non è una cosa strana, perché lo hanno sempre detto, sin dall'inizio, che tra la prima e la seconda dose bisogna sempre comunque stare molto attenti, perché il rischio di poter prendere il virus c'è, perché pur avendo inoculato la prima dose non significa essere protetti al 100%, quindi bisogna sempre comunque fare attenzione. Adesso ci sono 33 anziani, di cui 31 asintomatici e 6 operatori che sono infettati, quindi questa è un po' la situazione Senigallia. Dal Carlino, reddito di cittadinanza, trovati due furbetti, ostra denunciati dai carabinieri, in un caso una donna aveva acquistato un'auto nuova del valore di 30 mila euro, proseguono le indagini. Poi ancora cronaca, schianto una donna finisce in ospedale, è successo un incidente alle 13.30, una 53enne che è stata trasferita all'ospedale di Senigallia, e poi sempre dalle pagine di Senigallia è morto Sergio Vitali, storico neurologo, per 20 anni ha lavorato all'ospedale cittadino, lascia la moglie e due figli e stamane i funerali. Ancora dal Corriere Adriatico, la sanità in lutto per l'ex primario Vitali, l'ultimo atto d'amore donati gli organi, per anni ha diretto la neurologia di Senigallia, i funerali oggi alle 12 nella chiesa del Portone. Mentre il dolore anche per Manizza, Giampaolo Manizza che negli anni 70 ha gestito il Calipso, locale di tendenza di fianco alla Rotonda, si è spento a 77 anni, l'ex gestore di un locale storico della spiaggia di Velluto. Da Urbino picchiava e umiliava la compagna a processo, la vittima è una ragazza di Cagli, l'aggressore è un 34enne di Apecchio, alla richiesta di aiuto è subito scattato il codice rosso. Festa di laurea in un appartamento in centro, sette studenti scoperti dalla polizia e multati, per uno di loro la sanzione è stata raddoppiata perché come abbiamo detto era recidivo. Violenza, minacce e umiliazioni stop col braccialetto elettronico, al via il processo dopo anni di incubo, Gens Nova in aula difende la vittima, mentre sotto pericolo lungo il Burano i tubi con i reflui urbani passano nell'alveo legati agli alberi con le corde, l'opus in fabula chiama in causa la gestione di marche multiservizi. E sempre dal Corriere Adriatico, la sede, siamo a Fossombrone, la sede della Croce Rossa italiana, punto strategico dei piani di protezione civile, completati gli esterni e la zona terra della seconda palazzina che sarà sede di Coc e Com, mentre il sindaco Bonci si dice favorevole a riaprire bar e ristoranti, ma lancia un altro appello contro gli assembramenti. Bocciofila all'assalto del primato in Serie A1, oggi e domani l'occasione del doppio turno domestico, si gioca a porte chiuse. Valcesano, avviata la riqualificazione del lungomare per l'estate, sarà rifatto il marciapiede, sui muretti altri mosaici preparati dal chiaroscuro e sotto nel torrione bivacchi della movida clandestina, cartacce e bottiglie di alcol a San Costanzo sono tracce dei ritrovi irrispettosi. Mentre, sulla pagina 25 del Carlino, l'ANAS è pronta a riprendersi la Pecchiese, novità per la manutenzione dell'importante collegamento dell'entroterra, missione romana per l'assessore regionale Francesco Baldelli, sulla Fano Grosseto dice siamo in attesa invece del commissario e abbiamo chiesto il tracciato originario. Mentre a Fossombrone, la minoranza consigliare, reclama l'allargamento della pista ciclabile. Andiamo sull'altra pagina, questa volta lo Sport, VL, Repesia, è un leone chiuso in gabbia, ha contratto il virus, il preparatore Venerandi, Venerandi, scusate, c'è già passato, ci guida a distanza, dice stiamo rispettando comunque tutti i programmi. La Guardia ha svolto i controlli dopo l'operazione, sarà valutato nuovamente tra un mese, stiamo parlando della Guardia, ovvero di Massenat. Sotto invece ecco Blengini, la Lube, parliamo di pallavolo, subito a settembre lascerà l'azzurro, resterà nelle Marche anche dopo le Olimpiadi e gli europei. Il tecnico salutò Civitanova per andare in nazionale, con lui può tornare anche Zatiev. Spero di averlo letto bene, intanto in tantissimi stanno salutando Fefe De Giorgi su Facebook, tantissime sono le persone che lo stanno ringraziando per tutto quello che ha fatto per la pallavolo marchigiana, in particolare per la Lube. Ora, prima di salutarci, sono le 7.26 perché ci seguo in diretta, voglio soltanto ringraziare, a proposito del fatto di cronache che ci ha visti i protagonisti ieri con questo incendio, Allora, voglio ringraziare innanzitutto i Vigili del Fuoco che sono arrivati qua in pochissimo tempo, anche perché sono qua vicino a noi, sono arrivati qui, hanno fatto un lavoro straordinario, hanno messo subito in sicurezza tutto quanto, quindi ringrazio i Vigili del Fuoco, ringrazio il personale del 118 che ha soccorso alla nostra Letizia, poi ringrazio i Carabinieri, la Polizia, ringrazio anche gli elettricisti che sono venuti qua, subito hanno ripristinato in pochissimo tempo tutti gli impianti, hanno rimesso tutto quanto a norme e a sicurezza, ringrazio anche Mauro Papalini con la sua azienda, la Papalini che sta qua vicino a noi e che poi con il suo personale è riuscito a ripulire al meglio tutti gli ambienti, tutti gli ambienti che erano stati interessati dal fumo. Tra i colleghi invece, grande solidarietà e questo sono molto contento, lo dico anche a nome di tutti i ragazzi e il gruppo di Fano TV, ringrazio i colleghi, i colleghi del Corriere Adriatico, i colleghi di Tele 2000 di Urbino, i colleghi dei giornali online Vivere Fano e Fano Informa. E poi naturalmente i sindaci, in primis il nostro di Fano, Massimo Seri, poi Ereco Rossi, l'assessore Barbara Brunori, insomma tutti quelli che ci hanno scritto e chiamato per la vicinanza. Io ringrazio anche tutti voi per i tantissimi messaggi che ieri ci avete mandato, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì mattina, puntuali alle 7. Grazie a tutti.